Ieri, a culmine di una curata indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dalla Procuratore della Repubblica, il dottor Giovanni Bombardieri, gli investigatori della squadra mobile hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emesse dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Giovanni Tegano, nato a Melito Portosalvo il 23 marzo del 1996 e residente ad Archie, nipote del noto boss Giovanni Tegano del 1939, vertice dell'omonima famiglia di Indrangheta attualmente detenuto per il delitto di violenza privata, aggravato dalle modalità mafiose commesse in pregiudizio di un giovane regino. I fatti sono avvenuti nella notte del 28 maggio del 2017 dinanzi ad un noto bar della Movida Regina quando Giovanni Tegano giungeva sul posto insieme ad altri giovani a bordo di un'auto a forte velocità, andando così ad impattare con il marciapiede posto vicino al luogo in cui era seduta la vittima che stava trascorrendo la serata insieme ai propri amici. Quest'ultimo, avvertito l'impatto della ruota contro il marciapiede, aveva fatto cenno al conducente di andare piano, trovando tuttavia la pronta reazione del guidatore che scendeva dal veicolo, unitamente ad altri quattro giovani che con fare minaccioso proferiva parole del genere «Non sai chi sono io, sono Giovanni Tegano», continuando poi ad inveire o ad utilizzare la chiave dell'autovettura spingendola contro il collo della vittima, provocandogli lesioni personali. Le violenze sono consistite anche nel fatto che l'uomo veniva costretto a non allontanarsi dal posto per un successivo confronto con Tegano, che nel frattempo era entrato nel bar e nell'impedirgli di utilizzare il proprio telefono cellulare. La vicenda stava per degenerare in attimi di deliberata violenza quando Tegano, avvisato da alcuni suoi amici che la vittima tendeva a contattare le forze dell'ordine, usciva fuori dal bar e cercava, senza riuscirci, di colpirlo con schiaffi e pugni. Nel tentativo di ripararsi dai colpi, il giovane cadeva a terra e a quel punto Tegano, con i suoi amici, considerata la presenza di una moltitudine di avventori, si allontanavano dal posto. A Tegano viene inoltre contestata l'aggravante mafiosa per aver evocato, ostentando il proprio cognome, la forza intimidatore dell'omonima cosca di Indrangheta, storicamente espressione di una delle più temibili frange della locale criminalità organizzata.